Secondo me gli italiani e i francesi sono più amici o nemici? Per me sono amici. Direi amici. Siamo vicini, sul calcio è più complicata, ma a parte quello va tutto bene. Ho avuto la fortuna di visitare l'Italia più volte ed è un paese magnifico. Beh, direi che sono amici, penso di sì. Anche nello sport? Nello sport c'è qualche rivalità da un po' di tempo, ma credo che la Francia ne sta comunque bene. Sono paesi molto amici, si intendono bene. I francesi amano molto gli italiani. In Italia si mangia bene, è un bel paese. Io ho avuto l'opportuna di andare in Italia diverse volte e sono super gentili. Sono sicuramente amici, sì. Penso che possono essere entrambi, dipende da quali italiani e quali francesi. E nello sport nemici, sempre. Personalmente non lo so, ma penso che ci sia un po' di rivalità tra i due paesi, soprattutto a livello culinario. Anche nello sport? Anche molto. Non si affrontano volentieri e c'è molta rivalità. Dal 2006 nemici? È così, non possiamo farci nulla, è colpa del calcio. Direi piuttosto nemici, specialmente per il calcio. Ma c'è qualcosa che ama l'Italia o no? Ah sì, la cucina. Beh sì, la cucina, si mangia molto bene ed è un paese stupendo, è molto bello come paese. L'Italia mi piace perché ci sono stato, amo l'Italia proprio come amo il mio paese. Amo la storia, trovo che sia un paese ricco di storia, ci sono dei monumenti magnifici da vedere e poi la cucina. Beh, la cultura, le poche città che ho fatto mi sono piaciute tutte, l'architettura, l'ambiente in generale con gli italiani, si sta bene. Amo la cucina italiana, il mio piatto preferito è la lasagna, quindi per forza. Direi il cibo, la gastronomia e i paesaggi. Sono stati in Sicilia, in Sardegna, è stato tutto stupendo. La pasta, anche il sole, la cultura, poi in Francia sentiamo varie cose sul razzismo, ma in generale a me piacciono gli italiani. Solo per il calcio è la situazione un po' più complicata. Amo la cultura italiana in generale. Il cibo sicuramente, e le ragazze anche. Che c'è invece qualcosa che non ama dell'Italia? Beh, gli italiani, no scherzo. No, beh, non ci sono neanche stata 50 volte, però le 5-6 volte in cui ci sono stata è stato sempre bello. In generale l'Italia è un bel paese. Dell'Italia? Ciò che non mi piace è che gli italiani sono un po' chiusi, va detto. Sono un po' cospitali, sono come i francesi. Quando vieni in Francia è come se trovassi una nuova famiglia, parli con tutti, ti apri con tutti. Gli italiani non sono così. Ci sono tanti razzisti in Italia. Più che in Francia? Sì, penso che ce ne siano di più in Spagna e in Italia. I giocatori di calcio non mi piacciono, ma per il resto ho un'opinione positiva degli italiani. Amo l'Italia in generale, non ho nulla contro gli italiani. Non amo la mentalità. Perché? Perché ci sono molte persone con una mentalità arretrata. Per il momento no, non ho ancora visto nulla che non mi piaccia. Non. Grazie.